Un atto giusto, pensano, più che di coraggio. Forse ero più arrabbiata che altro, che impaurita. È stata definita mamma coraggio. Lei, Caterina, venerdì pomeriggio non è stato a mettersi in macchina da Villa Franca ed è arrivata in zona stazione a cercare quel ragazzo nordafricano che poco prima aveva minacciato suo figlio 15enne e gli aveva portato via giubbotto e cellulare. Io gli sono arrivata alle spalle, l'ho preso per il cappuccio del giubbetto e gli ho detto questo è il giubbetto di mio figlio, glielo ho sfilato, l'ho dato a mio figlio che controllasse cosa c'era in tasca, se c'era tutto, che mancava il cellulare. Però per fortuna i documenti e le chiavi di casa c'erano ancora. Ha rischiato grosso, voleva recuperare le chiavi di casa, ma i e poi mai le avrebbe lasciate nelle mani di un balordo e così lo ha affrontato e gli ha sferrato un pugno in faccia. Nelle tasche del giubbotto il marocchino aveva un flacone di metadone. Questa cos'è? Fa no, quella è la mia cura, mi serve perché sto male. e gli ho detto bene, allora dammi il cellulare e dopo avrai la tua cura. Poi nel frattempo stavo aspettando i carabinieri che un amico di mio figlio aveva chiamato. Nel frattempo nessun passante si è fermato a darle una mano, mentre era cerchiata da un gruppo di nordafricani che bazzicano in stazione e sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato lo straniero che aveva delle siringhe sporche di sangue. Caterina ha pensato solo a suo figlio e a restituirgli quel cellulare che con tanti sacrifici gli aveva regalato. Lei, che più che complimenti, chiede solo un lavoro. Io cerco un lavoro e non riesco a trovarlo. Ecco, continuo ad andare a portare il curriculum, a mandare il curriculum perché no, non ce la faccio, sono sola e con due ore di lavoro non riesco a mantenere, neanche a pagare l'affitto.